Musica Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video, io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video su Fortnite News per altri super leak Infatti abbiamo un sacco di novità, nuove skin in arrivo, nuovi bundle e soprattutto ragazzi un super e dico super leak di Spider-Man Infatti potrebbe presto arrivare su Fortnite e in maniera esclusiva per alcuni utenti Quindi ovviamente adesso andiamo subito a pallarne insieme ovviamente a tanti altri leak Ma prima di incominciare se non sei ancora iscritto controlla e iscriviti attivando la campanellina Cerchiamo di raggiungere i 200 mi piace e vi ricordo tutti i miei social qua sotto nei commenti fissato in alto Tra cui mi raccomando Telegram per leak in anteprima e così vi avviso anche quando esce un video, quando c'è una live Quindi unitevi mi raccomando Detto questo, incominciamo subitissimo Iniziamo subitissimo col primo leak Oggi parleremo tanto per quello che riguarda nuove skin in arrivo perché nuovamente non si sa come Ma si stanno trapelando in queste ultime settimane un sacco di nuovi bundle e skin che dovrebbero arrivare in futuro La prima ragazzi è lei, la skin Assassino Spartano Infatti questa versione qui di questa skin a breve potrebbe arrivare una sua versione maschile Non si sa ovviamente quando, potrebbe ovviamente anche essere scartata in futuro ma sappiate che questo set molto presto avrà anche la sua versione maschile Che infatti ovviamente manca all'interno di questo nuovissimo set Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate innanzitutto di questo set se avete già la skin femminina e se vorreste quella maschile Inoltre ragazzi qua sotto come potete leggere oltre a skin maschile avremo pure un backpack Che secondo me verrà rilasciato o con la skin maschile oppure all'interno del negozio GTA 200 V-Bucks circa E pure ragazzi un suo piccone Quindi diciamo che il set di questa skin non finisce qua ma continuerà con bene una skin e un backpack e pure un piccone Che presto ovviamente potrebbero arrivare ma ripeto potrebbero anche essere scartati come già successo alcune volte in futuro Inoltre ragazzi poi abbiamo una super news per quello che riguarda le skin serie di icone Infatti secondo il noto leaker Ipex entro ragazzi il fine di quest'anno quindi 2021 barra inizio 2022 Avremo ben due personaggi due persone non sappiamo se streamer cantanti o qualsiasi altra cosa ma avremo due skin serie di icone Quindi aspettatevi queste due nuove collaborazioni future per quanto riguarda la ovviamente sezione serie di icone Aggiornamento anche per la nave madre infatti come possiamo vedere foto che vedete sopra in alto è quella di ieri alle 22 Invece quella che vedete sotto è l'aggiornamento di oggi per quello che riguarda le 16.30 Quindi abbiamo avuto uno spostamento ovviamente leggerissimo si sta spostando mi sembra verso sinistra Anzi verso destra quindi verso insomma Foschi Fumaioli Non sappiamo se sarà la prossima città a essere modificata proprio Foschi Fumaioli oppure un'altra Ma sembrerebbe che anche magari la città della fattoria possa essere modificata Quindi sicuramente Foschi Fumaioli o la città della fattoria verranno modificate ovviamente con l'aggiornamento di questo martedì Inoltre ragazzi nuovissime skin come vi ho già detto prima stanno per arrivare Vediamole mano a mano tutti iniziamo con la prima Infatti sembrerebbe ragazzi che un'altra skin a tema cibo sia in arrivo su Fortnite E' attualmente in lavorazione quindi non abbiamo ovviamente né foto né niente Ma come possiamo vedere sembrerebbe che sia proprio una skin di un salame Quindi a breve vedremo anche la skin di un salame Non so in che maniera non so in che modo ma in teoria la dovremmo vedere sicuramente in futuro Ripeto non sappiamo quando potrebbe arrivare Potrebbe anche essere questa come tante altre scartata poi Ma sembrerebbe che all'interno di Falci sia una skin diciamo a tema salame Inoltre ragazzi ben altre 3 skin che non sappiamo se sarà un bandolo proprio skin a parte Buttate così nel negozio i getti ma eccole qua C'è il scimpanzè spaziale che dovrebbe essere praticamente un astronauta ma versione scimpanzè Interessante come skin Il mago della mezzaluna probabilmente per a lui in questa skin Poi ragazzi muta sarong skin femminile che non sappiamo ancora quale sia Queste 3 skin le dovremmo vedere comunque in futuro Così come anche ragazzi queste altre skin che sono la controparte della skin insomma che abbiamo già visto prima Dell'assassino insomma versione spartano La controparte anche maschile di Mariana che non so che skin sia Poi abbiamo Lemorosa che è una skin sempre versione femminile Gladiatore Ying Yang Patata quindi una skin anche della patata probabilmente avremo E lo Slug che non so cosa sia Queste skin comunque sono nei file di gioco e potrebbero arrivare anche queste su Fortnite E non finiscono qui ragazzi le skin che dovrebbero presto arrivare Infatti come possiamo vedere abbiamo questa volta un pack quindi confermato che si chiama Dolci Leggende Così denominato insomma la traduzione in italiano Non abbiamo gli stili ovviamente che saranno nel bundle Però sappiamo che ci saranno queste 3 skin che sono Dolce Goof Dolce Pesce Secco Leader Squadra delle Coccole Queste 3 skin avranno 3 nuove varianti In questo diciamo versione Dolce che non so come potrebbe essere messo Magari versione Caramella tipo L'unica cosa che mi viene in mente Però saranno 3 skin in questo nuovissimo bundle Che ovviamente costerà o in V-Bucks oppure in denaro reale Inoltre ragazzi vi ricordo che c'è pure un nuovissimo bundle Delle leggende diciamo ombre oscure Chiamatelo un po' come volete Infatti l'avevamo già accennato in qualche video fa Questo invece è un concept di come molto probabilmente potrebbero essere queste due skin Che come ben sappiamo c'è questo nuovo pacchetto leggendo oscure Che dovrebbe avere queste due skin Versione ombre veramente bellissima E poi ce n'è un'altra che non mi ricordo qual è Comunque c'è un'altra skin E queste due diciamo però sono le più belle Perché ovviamente i ninja versione ombre sono veramente tanta tanta roba E come possiamo vedere ovviamente a breve O sicuramente nei vari season dovremmo avere questo nuovissimo bundle Sempre o in denaro reale oppure in V-Bucks Inoltre ragazzi oggi vi ricordo che c'è la Cap Galaxy Quindi vi voglio dare giusto due dritte e due consigli Quindi prima cosa ovviamente installate sul vostro dispositivo Android Mi raccomando Fortnite Vi consiglio ovviamente di installarlo nel dispositivo più potente che abbiate Perché sicuramente vi andrà in surriscaldamento Ve lo dico già Quindi state molto attenti E vi dico anche qualche consiglio riguardo alla Cap Vi consiglio assolutamente o di collegare la tastiera Se siete bravi da MK Oppure anche con il pad tranquillamente via Bluetooth Mi raccomando utilizzatelo Se sapete insomma giocare da quei dispositivi Perché siete molto più avvantaggiati Insomma rispetto a chi gioca magari solamente con le mani Quindi mi raccomando collegatelo E vi ricordo che partirà la Cap da stasera Mi sembra dalle 19 fino alle 22 Inoltre vi ricordo che ovviamente potete vincere Sì il set in anteprima di questa super skin Ma soprattutto anche lo spray a 20 punti Quindi se volete giusto giocare per lo spray Sappiate che per 20 punti ve lo portate a casa Che è uno spray comunque parecchio raro E adesso ragazzi andiamo invece alla news più importante che abbiamo per questo video L'avrete sicuramente letto dal titolo Infatti la collaborazione tra Fortnite e Marvel potrebbe insomma continuare con questa super novità Infatti la skin ragazzi come potete vedere qui alla mia destra di Spider-Man Secondo un utente insomma secondo un leaker Come possiamo leggere ha rivelato che Epic Games sta lavorando ad una skin di Spider-Man Innanzitutto in collaborazione però con PlayStation quindi con Sony Inoltre ha pure detto altre informazioni infatti Epic e PlayStation sono nelle prime fasi di sviluppo Quindi manca ovviamente ancora un po' per il rilascio di questa nuova collaborazione di questa skin E inoltre lo sviluppo di un crossover di Spider-Man stanno pure lavorando Inoltre altre informazioni Sony ha intenzione di rendere l'offerta quindi questa skin Esclusiva solamente ragazzi per i possessori di una qualunque PlayStation Quindi in poche parole se avete un PC, un Xbox, una Nintendo, un telefono Non potrete ottenere questa skin infatti sarà solamente un'esclusiva per gli utenti Sony Quindi per gli utenti PlayStation Quindi in poche parole Spider-Man lo potranno ottenere solamente loro Non si sa ancora in quale modo si dice che tramite il PlayStation Plus proprio si potrà ottenere Quindi tutti gli abbonati che hanno questo PlayStation Plus lo otterranno gratis in teoria Questa skin di Spider-Man in teoria anche poi con il set completo ma non è ancora confermato Potrebbe anche magari essere rilasciato tranquillamente nel negozio PlayStation Magari anche ad un prezzo non lo sappiamo Fatto sta che però sembrerebbe un'esclusiva solamente comunque per gli utenti PlayStation Quindi in poche parole noi da PC oppure Xbox, telefono non potremmo praticamente mai ottenerla Almeno che non insomma avete in possesso questa PlayStation Quindi ragazzi veramente un'esclusiva grossa se così dovesse essere per comunque tutti gli utenti PlayStation Che si porteranno a casa insomma una skin di tutto il rispetto ovvero quelle di Spider-Man Quindi per il momento abbiamo queste news Sicuramente manca ancora comunque parecchio tempo prima che verrà rilasciata questa collaborazione Come è anche scritto proprio in questo post Ci vuole ancora tempo e ancora nelle prime fasi di sviluppo potrebbero cambiare le cose Quindi ovviamente prendetelo ancora con le pinze Non è una notizia ovviamente ufficiale ma è una grossa comunque probabilità Detto questo per il video di oggi comunque è tutto Mi raccomando lasciate un bel like e se non sei ancora iscritto iscriviti attivando la campanellina E noi ci vediamo domani alle 18 con un nuvissimo video Bella Ciao